I nostri comuni sono sotto pressione e stanno affrontando un'emergenza umanitaria, l'accoglienza dei profughi ucraini e allo stesso tempo devono gestire gli investimenti previsti dal PNRR. Da oggi inizia un progressivo ritorno alla normalità, è terminato infatti dopo oltre due anni lo stato di emergenza, i posti sui treni Trenord si possono occupare fino al 100% della capienza complessiva. Auto senza tempo saranno le protagoniste dell'evento targato ACI che domani animerà la Valtellina, con la manifestazione e la città di Sondrio con le premiazioni in Piazza Garibaldi. Grandi emozioni quelle regalate dalla tappa Livignasca del campionato italiano di motoslitt, la manifestazione tricolore quest'anno aveva una dedica speciale a Narciso Zini. Buonasera, buonasera a tutti i nostri comuni, se quelli di maggiori dimensioni, se quelli più piccoli, stanno affrontando un'emergenza umanitaria all'accoglienza dei profughi ucraini e allo stesso tempo devono gestire al meglio gli investimenti previsti dal PNRR. Vediamo. Sono due fronti caldi che verranno impegnati i nostri comuni nei prossimi giorni e mesi, l'accoglienza dei profughi ucraini e la messa a terra del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, temi affrontati nel recente incontro promosso da ANCI, Associazione dei Comuni Italiani. Per quanto riguarda l'emergenza umanitaria, i sindaci hanno chiesto il riconoscimento formale del ruolo centrale dei municipi che devono essere sostenuti su un versante così delicato. Sugli investimenti che verranno finanziati dal PNRR si chiede che vengano sciolti i nodi che complicano l'attività e l'operatività degli enti locali e rischiano di vanificarne gli sforzi. All'importante momento di confronto milanese, promosso da ANCI Lombardia in collaborazione con la Regione, con gli europarlamentari, i senatori e i deputati eletti in Lombardia, erano presenti il sottosegretario di Stato Bruno Tabacci, i ministri per gli affari regionali e autonomie Maria Stella Gelmini del turismo Massimo Garavaglia, il presidente della Regione Fontana, l'assessore agli enti locali in montagna e piccoli comuni Massimo Sertori, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il presidente di ANCI Lombardia Mauro Guerra e il presidente dell'Unione Provincia Lombarde Luca Sant'Ambrogio. Il confronto su problematiche che tutti i comuni devono fronteggiare costruttivo, spiega il sindaco di Sondio Marco Scaramellini, che rappresenta l'incontro. Il coordinamento a livello istituzionale diventa un passaggio obbligato, poiché ogni realtà ha esperienze, sia positive che negative, da condividere. Personalmente trovo il dialogo anche stimolante, perché nessuno come un sindaco può rappresentare agli enti superiori la situazione dei comuni in un periodo straordinariamente difficile, qual è questo che stiamo attraversando. Serve un sostegno, non soltanto economico, sottolinea Scaramellini, nella giusta direzione. Vivere il territorio, parlare con i cittadini, risolvere i problemi che giorno dopo giorno si presentano, ci rende interlocutori qualificati, oltre che credibili. La pandemia prima e ora l'emergenza dei profughi, afferma il primo cittadino di Sondrio. Hanno posto i nostri comuni di fronte a nuove sfide, che saremo in grado di affrontare e di vincere soltanto se uniti, coordinati e con l'attenzione e il sostegno degli enti superiori. Primo aprile, da oggi inizia un progressivo ritorno a normalità. È terminato, infatti, dopo oltre due anni, lo stato di emergenza, che venne proclamato il 31 gennaio 2020 per la pandemia da Covid-19. Ed entrano in vigore nuove norme che, per tutto il mese di aprile, eliminano in molti casi il Green Pass e limitano l'utilizzo di quello rafforzato. Il certificato verde, lo ricordiamo, andrà definitivamente in archivio dal 1 maggio. Ci sono novità per i trasporti, da oggi è 1 aprile. I posti sui treni di Trenord si possono occupare fino al 100% della capienza complessiva. A bordo, spiega la società, i passeggeri saranno tenuti a indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del viaggio. Per viaggiare non sarà più obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato né del Green Pass base. Il servizio ferroviario, aggiunge Trenord, è potenziato in modo da garantire la massima composizione dei convogli, in particolare sulle linee e negli orari a maggiore frequentazione. Il mondo delle api è davvero affascinante e importantissimo per il nostro ecosistema, ai giovani, ai nostri studenti. È rivolto il progetto educativo finanziato da Fondazione Caliplo. L'obiettivo è avere una società sempre più green. Se non ci fossero le api, la vita sulla terra scomparirebbe. Ma perché? Saranno i bambini a insegnarcelo. Grazie al progetto Be Aware di APAS, Associazione Produzione Apistici della provincia di Sondrio, sostenuto da Fondazione Caliplo. Gli alunni sondriesi delle scuole primarie andranno a scuola dalle api. Sono previsti lezioni in aula, laboratori pratici e piccole attività da svolgere a casa, per approfondire temi legati al funzionamento della società degli impollinatori per eccellenza, al cambiamento climatico e alla sostenibilità. Attraverso un metodo di apprendimento interdisciplinare, volto a stimolare capacità intellettive, riflessive, manuali e creative, si incentiverà il confronto con gli altri e si svilupperà spirito critico allo scopo di avvicinare gli studenti alle discipline scientifiche. Con Be Aware i ragazzi sperimenteranno come, con piccole azioni quotidiane, possano contribuire a ridurre l'impatto ambientale delle attività umane, diffondendo e promuovendo pratiche sostenibili, grazie al coinvolgimento delle famiglie e della collettività, da fruitori del progetto a promotori attivi del suo messaggio. La transizione ecologica si configura come un passaggio a una società e un sistema economico che adottino comportamenti ambientalmente sostenibili attraverso una riduzione dell'impatto umano sull'ambiente. Portare consapevolezza alle nuove generazioni sui temi legati alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale è essenziale per accelerare questo cambio e ottenere risultati significativi e duraturi. Auto senza tempo che fanno sognare saranno loro le protagoniste assolute dall'evento targato ACI che domani animerà la Valtellina. Quale è la manifestazione? La città di Sondrio con arrivi e premiazioni in piazza Garibaldi. Vediamo. Vetture che rapiscono lo sguardo. Le potremo ammirare il 2 aprile nella seconda edizione del trofeo Valtina Classic, gara valida per il trofeo nazionale regolarità. La manifestazione rappresenta una gara titolata, iscritta al calendario ACI Sport, riservata alle auto storiche e moderne che prevede un percorso lungo la Valtellina sui versanti orobico-eretico e con passaggi nella strada del Mortirolo, a Teglio, a Ponte in Valtellina. Le auto partecipanti alle gare di regolarità auto storiche devono possedere la FIS d'identità che ne comprova la conformità alla vettura di origine e al relativo anno di costruzione. Infatti la gara ammetterà la partecipazione di auto costruite dalle origini fino al 1990 con premialità per le auto d'epoca meno recenti. Le vetture seguiranno un percorso stradale predefinito da un roadbook di circa 200 km su due settori. Al termine della gara, che prevede anche un premio Coppa dei Vini, in piazza Garibaldi a Sondio ci sarà una prova spettacolo, la Power Stage Classic organizzata in collaborazione con ACI Storico. Le gare di regolarità sono manifestazioni nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere determinati tratti di percorso costituisce il fattore determinante per la classifica. Sarà una competizione in grado di coniugare l'aspetto culturale con quello sportivo e turistico, con soste lungo il percorso in punti panoramici ricchi di storia e tradizioni. E in contemporanea dedicato a vetture storiche di epoche più recenti, prodotte anche dopo il 90, si potrà seguire l'evento Ruote nella Storia 2022, iniziativa promossa da ACI Storico in sinergia con l'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, in collaborazione con l'Automobile Club Sondrio. Offre ai cultori e ai possessori di auto storiche nuove occasioni di incontro e di divertimento, proponendo giornate alla scoperta di affascinanti borghi italiani a bordo di vetture di oltre 30 anni d'età. Ora ci spostiamo in Alta Valtellina, grandi emozioni quelle regalate dalla tappa livignasca del campionato italiano per motoslitte. La manifestazione, tricolore, quest'anno aveva una dedica speciale a Narciso Zini. Vediamo. Il trofeo Predominator ha chiuso la due giorni di campionato italiano di motoslitte 2022 al passo Eira di Livigno. È stato intitolato allo storico speaker di Livigno, Narciso Zini, a cui anche il pluricampione Alessandro Plone era voluto dedicare un omaggio verbale, ricordando la sua voce, il suo carisma, il suo entusiasmo, che caratterizzavano e rendevano ancora più bella la tappa livignasca del tricolore motoslitte. Purtroppo quest'anno non abbiamo più una voce che era una grande grinta nel campionato italiano motoslitte, la voce del nostro Narciso. Ci abbiamo tenuto molto a ricordarlo, dedicandogli questa finale di campionato e dedicandogli proprio una gara a lui con un trofeo ad hoc, perché Narciso era sempre presente quando poteva nelle nostre gare, veniva a farci da speaker. Oramai era conosciuto da tutti i piloti che lo conoscevano personalmente e riconoscevano la sua grande capacità di dare spirito e grinta ai piloti, sempre delle belle parole per tutti i piloti e veramente era un qualcosa che permetteva di rendere più grande quella che era la tappa di Livigno dal campionato italiano. Lo stesso Alessandro Plone era riconosciuto come la presenza di Narciso era un motivo in più per venire a Livigno a gareggiare, perché la grinta e la passione che riusciva a trasmettere Narciso con le sue parole, sempre molto intense nei suoi commenti durante le gare, erano qualcosa che per i piloti era uno stimolo in più. Questa voce che è venuta a mancare sicuramente lascerà un voto nel campionato italiano, però noi ci teniamo a ricordarlo e abbiamo dedicato questo trofeo e speriamo di poter ancora organizzare qualcosa per lui in sua memoria, perché per noi ha sempre fatto tanto. Un evento come sempre che ha coinvolto molti giovani, molti volontari. Sì, noi come Motoclub siamo veramente fortunati ad avere un nutrito gruppo di volontari che ci danno sempre una mano e se riusciamo a organizzare queste manifestazioni è proprio grazie a loro. È stato presentato al Cinema Excelsior di Sondrio il docufilm Ieri Oggi Dante, realizzato a chiusura delle celebrazioni volute dall'ufficio scolastico di Sondrio nel settecentenario dalla morte di Dante Calighieri. Il documentario realizzato in Valtellina ha aperto gli eventi del progetto La Cultura Rinasce. La Valtellina è stato proprio il teatro meraviglioso che ha fornito del materiale visivo a supporto e sostegno di questa narrazione. Sono le parole di Elisabetta Sola, sceneggiatrice del docufilm Ieri Oggi Dante, realizzato da Ufficina della Comunicazione per la regia di Marco Marcassoli. Nel progetto La Cultura Rinasce e Passa in Valtellina, promosso dalla cooperativa Nicolò Rusca Istituto Pio XII, in collaborazione con Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio e Scuole Polo IC Paesi Eurobici e Istituto Alberti di Bormio. La Valtellina è stata una sorpresa anche dal punto di vista realizzativo di questo documentario perché oltre a coinvolgere direttamente dei giovani valtellinesi, quindi dei giovani che frequentano le scuole locali e che hanno prestato appunto la loro faccia, il loro pensiero, la loro emozione a questa narrazione. Abbiamo effettuato delle riprese veramente molto molto belle, sfruttando delle caratteristiche, la bellezza delle caratteristiche territoriali e quindi il famoso ponte sospeso. C'è un legame stretto con appunto la realtà valtellinese legata proprio alla produzione cinematografica. In particolare una grande sensibilità di questo territorio a realizzare prodotti di qualità destinati proprio come primo utilizzo appunto alla scuola, ai giovani della scuola che hanno la necessità di sperimentare dei linguaggi diversi per appunto il passaggio dei contenuti. Il docufilm, autentico viaggio alla scoperta e riscoperta di Dante e delle tematiche affrontate nella commedia, è stato presentato ai ragazzi al Cinema Excelsior di Sondrio. Questo docufilm è il coronamento di tutte le attività che l'ufficio scolastico ha voluto dedicare a Dante nel corso del 2021. Quando ho deciso di affidare a Officina della Comunicazione questo lavoro ho chiesto che fosse un lavoro che esprimesse anche il territorio valtellinese dal momento che è stato sostenuto in maggior parte da enti, associazioni insomma che provengono e che sono in Valtellina. Quindi doveva essere qualcosa connotato dalla appartenenza valtellinese. Così è stato girato qui e anche i ragazzi che intervengono all'interno di questo docufilm sono ragazzi delle nostre scuole. Lo scopo di questo docufilm è proprio quello di dimostrare che Dante dice delle cose che valgono anche oggi per i ragazzi che hanno 15, 16, 17, 18 anni. Il messaggio è quello di leggere Dante quando hanno qualche domanda, quando hanno qualche perplessità, quando hanno qualche dubbio, quando sono innamorati perché leggendo Dante troveranno le risposte. Bene, siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento sul web con il nostro sito teleunica.com, la nostra web tv teleunica.tv, la nostra presenza sui principali social. Con questo davvero tutto, vi auguro una buona serata.